Mi chiamo Serene, sono di Padova, ho partecipato ad un programma televisivo su Real Time, il programma Tick Me Out, è stata una bellissima esperienza, mi sono tanto divertita, ho conosciuto delle persone fantastiche, l'idea del documentario mi è piaciuta molto perché si affronta una tematica molto importante e quindi mi piace partecipare. Ciao a tutti!